Buongiorno, il nostro secondo candidato è l'avvocato Giancarlo Giordano, presente, benissimo, è uno dei nostri candidati più simpatici ed è quello per cui noi voteremo in massa, suppongo. No, a parte che Gian è un amico. Giancarlo, ci vuoi dire qual è la tua motivazione a questa candidatura e quali saranno i tuoi propositi per migliorare questa città? Io sono già, diciamo, la seconda esperienza come candidatura e sembra che è stato candidato con Claudio Bore all'epoca candidato sereno. Abbiamo assistito in questi ultimi cinque anni un barba di slogan che questa volta la cambiamo, abbiamo assistito una città che è rimasta assolutamente ferma, una città che è stanca, che è immobile e che è disillusa da promesse che avevano state fatte dall'amministrazione della sua carattina. Dovresti alzare un pochino la voce, ti chiedo scusa. Io ritengo che questa città abbia davvero potenzialità da sfruttare di primaria importanza. Prima tra tutte la pigna. Ognuno di noi quando va in vacanza in qualche città, in giro per l'Italia, è portato naturalmente andare a visitare i centri storici di queste città. Sanremo ha la peculiarità di avere un'ottima, bellissima pigna, che però rimane per larghi tratti non sfruttata e inavvicinata dai turisti per via di voci su delinquenza, eccetera. Bisogna intervenire in maniera radicale in un'opera di recupero del centro storico, che al contempo, lasciando perdere le iniziative da sceriffi, al contempo comporterà inevitabilmente anche una maggior vivibilità del centro storico, che verrà riconsegnato quindi alla città e ai turisti. Quindi, diciamo, un qualcosa che hai in mente, ad esempio, per fare questo miglioramento? Io penso che non servono... La pulizia... Esatto, non servono interventi... Evitare che venga ghettizzata... E infatti, ma io ritengo che non siano necessari interventi faraoni. Servono un'opera di semplice restyling, di pulizia, di sistemazione di alcune piazze che sono lasciate al degrado. Servono davvero interventi mirati, ma che non debbano per forza impegnare risorse per periodi troppo lunghi, perché altrimenti poi si finisce con non raggiungere l'obiettivo che ci sono dato. Ti ringrazio, sei stato molto gentile. In bocca al lupo. Grazie a tutti i nostri spettatori. 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 Grazie a tutti i nostri spettatori.